Io ripeto sempre che gli spazi politici che non sono occupati da altri vengono occupati, quindi noi abbiamo bisogno di offrire alla città un punto di riferimento che sia quello di una sinistra che non vuole la restaurazione, di una città di Milano che non vuole la restaurazione e vuole andare avanti col sogno che queste belle giornate di Milano ci ricordano del 2011. Quindi secondo lei Parisi e Sala sono troppo simili? Sono due candidati fotocopia? Se lo dicono uno con l'altro, quindi sono sovrapponibili. Sono sovrapponibili, si contenderanno una parte dell'elettorato e noi non possiamo lasciare un'altra parte dell'elettorato dei cittadini milanesi senza un punto di riferimento. Qualcuno lo occuperà a quel posto. Che sarà l'espressione se possiamo anticipare di questa... Ma io non so chi lo sarà. Io credo che le condizioni creeranno anche la persona, cioè siccome questo spazio c'è, è dovuto, i cittadini milanesi lo desiderano, si troverà la persona adatta dagli riferimenti.